Dimissioni confermate. A Gualdotadino l'assessore ai servizi sociali, cultura e turismo Barbara Bucari scrive al sindaco Presciutti per confermare le sue dimissioni. A nulla è valso il confronto avuto in questi giorni dopo che il primo cittadino e la giunta avevano rigettato la lettera con cui Bucari annunciava l'abbandono dell'esecutivo. L'assessore, eletta in quota PD, ha deciso oggi di confermare la sua decisione. Tiene a ribadire che non c'è necessata rottura con il sindaco e i membri dell'esecutivo, ai quali porge il suo ringraziamento e un buon lavoro per il futuro, ma sottolinea criticità che non le consentono di proseguire. Criticità si legge in una nota inviata Presciutti in data odierna politiche e amministrative, sia nella struttura operativa del comune che nei rapporti con i rappresentanti interni ed esterni del proprio schieramento politico. Criticità che per il carico di lavoro da svolgere relativo alle deleghe affidate mettono a rischio i risultati da raggiungere e il normale buon svolgimento del proprio servizio, oltre che intaccare aspetti lavorativi e personali della propria vita. Bucari auspica che il passo indietro apra una sana discussione interna nelle sedi deputate per tutelare il buon lavoro svolto dall'amministrazione e dalla stessa, ed eviti personalismi in vista delle prossime scadenze elettorali. Evidente dunque il clima atteso all'interno del PD, uno dei motivi delle dimissioni, lo scollamento tra partito di rappresentanza e governo, la prossima scadenza elettorale della primavera 2024 già inizia a far sentire il suo peso.